In molti mi avete segnalato che è tornata la truffa squillo. Che cos'è? Sono chiamate dall'estero che servono per succhiarvi i soldi. Questo scherzo potrebbe costarvi 1,50 euro al secondo. Ecco come funziona. Come prima cosa fanno uno squillo giusto per attirare la vostra attenzione. Poi ne fanno un altro. A quel punto la curiosità spinge molte persone a richiamare. Dato che in questo periodo di quarantena l'unico mezzo di comunicazione con l'esterno è il telefono, le persone sono più soggette a cadere in questo tranello. Quindi fate molta attenzione in particolare dalle telefonate che arrivano da Tunisia, Inghilterra, Bielorussia, Kosovo e Moldavia. Come proteggersi? Non richiamare assolutamente numeri sconosciuti, non inviate messaggi, non aprite nessun link. In caso sospetto segnalatelo alla polizia postale. Non richiamare assolutamente numeri sconosciuti,